buongiorno a tutti amici e amiche bentornate o benvenute sul canale in un nuovo video oggi come vedete mi sono data una ristrutturatina in quanto come vi dicevo appunto lunedì inizio a lavorare ho fatto scalato un po i capelli sono stata dal parrucchiere mi sono fatta un po mossa con questi boccoli diciamo la piega non mi fa impazzire perché la vedo un po più gonfia di qua e meno gonfia di qua nel lato destro nel mio destro però vabbè sempre meglio di come me li faccio io mi sono truccata se come vedete gli occhi ho messo una riga di ho messo un matitone di chico di una vecchissima collezione viola con ho fatto la riga di nero all'attaccatura delle ciglia un po di blush e semplicemente un lucida labbra perché se trucco gli occhi non mi piace truccare molto le labbra e come vedete comunque io mi trucco sempre in maniera molto naturale non mi piace vedermi con trucchi troppo pesanti ad ogni modo eccomi qui perché oggi vi voglio parlare di qualche prodottino beauty che mi ha particolarmente colpito al primo utilizzo ai primi utilizzi diciamo quindi non sono delle recensioni complete sono dei prodotti che ho iniziato a testare da poco tempo ma che già in qualche modo mi hanno colpita e mi sono piaciuti diciamo mi piacciono particolarmente quindi cominciamo subito non perdiamoci in chiacchiere comincerei con io messi tutti nel famoso cestino dell'ikea che avevo detto che non avrei usato per queste cose invece mi sono smentita subito come proprio le vere youtuber prendo in giro me stessa ovviamente nel cestino dell'ikea però devo dire che è comodo per mantenere i prodottini quando si devono fare i video quindi li ho messi tutti qui e ve ne voglio parlare allora primo comincio dai detergenti viso ho due barra tre detergenti viso che mi stanno colpendo mi hanno colpita particolarmente il primo lo conoscerete tutti è il detergente di serave nella versione detergente levigante qua dice adatto a pelli molto secche ruvide e screpolate deterge delicatamente ed esfolia nel rispetto della barriera protettiva della pelle con tre ceramidi essenziali acido salicidico e acido ialuronico senza profumo allora questo prodotto io era andata in farmacia e la farmacista me l'aveva vivamente sconsigliato per la mia pelle dicendo che siccome la mia pelle è mista questo detergente non andava bene niente di più sbagliato io ovviamente ho fatto di testa mia me lo sono acquistato su un sito di una parafarmacia online e devo dire che lo sto amando lo utilizzo da appena una settimana a volte mattina e sera a volte solo la solo la sera o solo la mattina dipende e devo dire che già vedo la mia pelle più luminosa perché fondamentalmente c'è l'acido c'è l'acido salicidico io vado molto d'accordo con i prodotti con l'acido salicidico infatti spesso uso anche dei tonici all'acido salicidico per togliermi i grani di miglio ovviamente non vanno via subito però con l'uso continuativo di prodotti a base di acido salicidico riesco a togliere infatti stavano già un po scomparendo ma erano rimasti con l'utilizzo di una settimana di questo prodotto mi sono andati via del tutto è buonissimo e inoltre non secca assolutamente la pelle proprio perché probabilmente c'è dentro l'acido ialuronico quindi è ben bilanciato questo prodotto è un prodotto fantastico e sfoglia quindi rende la pelle luminosa ma allo stesso tempo non la secca gli da il nutrimento che gli serve per cui adatto anche benissimo alle pelli come la mia quindi non date tanto retta alle farmaciste che a volte sinceramente dicono cose che magari sui farmaci sono serrate ferrate volevo dire ma sui prodotti cosmetici sinceramente a volte danno dei consigli che proprio meglio lasciar perdere quindi questo promosso a pieni voti prodotto meraviglioso sono già qui ma lo ricomprerò sicuramente cioè mi ha veramente colpito questo prodotto poi secondo detergente viso è questo detergente della rilastil dice acqua dice acqua detergente viso idratante riequilibrante con acido ialuronico ad alto e basso peso molecolare ceramidi e omega 6 omega 6 allora questo detergente non l'ho comprato io l'ho trovato a casa di mia madre mia madre non si compra mai niente di beauty un po di tempo fa sempre la solita crema dell'oreal che usa da miliardi di anni quella al calcio adesso ha cambiato ne ha presa un'altra ma in genere usa sempre l'oreal lei io gli avevo detto ma vai in farmacia a comprarti qualcosa anche perché vedevo che usava un fondotinta che non era assolutamente adatto per la sua pelle come colore mia madre ha 77 anni si vede che la farmacista gli ha consigliato questo gli ha dato anche una crema della rilastil che però lei ha finito e un fondotinta della lirac io sono entrata in bagno visto questo detergente mi sono subito lavata il viso a casa sua con questo detergente buonissimo allora e l'ho usato solo tre volte ma già vi posso dire che mi piace molto sì sì tre volte tre o barra quattro volte allora e vi faccio vedere la consistenza ha una consistenza non è un gel innanzitutto vedete la consistenza è questa qui è un latte gelatinoso che quando si emulsiona come la con la pelle da una sensazione strana come se si appiccicasse alla pelle è molto denso per cui va emulsionato molto bene con l'acqua per fare schiuma però ragazze lascia la pelle morbidissima idratata levigata veramente buono veramente buono 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 ma non dubita perché comunque rilastil fa dei prodotti veramente fantastici io ho un prodotto super top di rilastil che uso da tantissimi anni e che vi di cui vi parlerò sicuramente prima o poi e niente quindi questo prodotto fantastico non escludo comunque di ricomprarlo anche se comunque mi piace cambiare e quindi questo è un ottimissimo prodotto il secondo detergente che mi sta piacendo diciamo molto non secca assolutamente la pelle la lascia proprio senza effetto tiraggio ma la senti proprio pulita qua dice anche riequilibrante sì perché comunque la pelle era ben normalizzata né secca né grassa per cui sì ottimo poi un altro prodotto che mi piace tantissimo è un prodotto che si chiama in farmacia ed è questo blefasol allora questo è un qua dice lozione micellare per l'igiene delle palpebre sensibili allora questo è un prodotto che di cui ho sentito parlare nel canale di gattaluna che è una signora diciamo un po diciamo di età matura che mi piace molto che seguo e lei lo aveva consigliato in effetti è buonissimo allora toglie via tutta la è un prodotto che va utilizzato ovviamente sugli occhi e toglie via tutta la sporcizia praticamente degli occhi e non irrita assolutamente non brucia assolutamente a volte a me capita che mi vanno a finire dei residui di makeup dentro l'occhio matita eyeliner mascara e magari provo del fastidio passo questo lo massaggio bene sull'occhio a volte prendo anche un cotton fioc e mi pulisco bene l'occhio dentro e sinceramente gli occhi sono pulitissimi e le palpebre pure e qui dice che nel claim del prodotto dice che adatto sia per rimuovere il trucco ma anche per rimuovere la sporcizia degli occhi a volte quando ci si sveglia la mattina non vorrei dire cose che non sono un po non sono proprio piacevoli però vengono a volte no delle come si chiamano le caccoline negli occhi la sporcizia che si trova negli occhi questo è un detergente che rimuove perfettamente tutto costa una decina di euro l'ho comprato su una parafermacia online adesso non ricordo una delle tante dove faccio acquisti online ottimo ottimo prodotto veramente ve lo consiglio a occhi chiusi poi un altro prodotto che mi sta piacendo molto che utilizzato solo 4 5 volte è questo tonico per pelli da miste a grasse della Yves Rocher eccolo qua questo dice con tonico effetto cipria opacizzante con menta piperita bio pelle da mista grassa sono 150 ml di prodotto l'avrò pagato sui 7 euro qualcosa del genere e dice con menta piperita bio allora lo trovo effettivamente allora allora intanto ho fatto c'è proprio una polverina sotto e poi c'è il liquido va miscelato quindi ben agitato prima dell'uso e mi piace molto perché noto proprio l'effetto opacizzante sulla pelle mi restringe i pori mi mi tiene a base all'effetto della lucidità sulla pelle però non me la fa tirare per cui questo è un prodotto che mi piace non so se lo ricomprerò perché come vi ho detto mi piace testare e provare sempre nuove cose però è un prodotto che veramente vi consiglio per chi ha le pelli miste e grasse e quindi questo amore e direi che con i detergenti diciamo abbiamo finito poi passerei passerei a un prodotto per le labbra allora come io vi dicevo in un precedente video io sono molto noiosa per le labbra faccio fatica a trovare dei prodotti che mi piacciono veramente questo è un prodotto coreano che ho acquistato su make up al prezzo di 15 euro però ho visto che si trova anche su yes style e costa meno 9 euro l'ho visto ed è quello che avevo fatto vedere nell'all se non mi ricordo male di make up quindi lo uso da quando praticamente l'ho comprato mi sarà arrivato una settimana fa più o meno è della Petify non so se si legge qui è della Petify e dice ai 6 oli ai 6 oli fitocosmetici il prodotto viene descritto come una maschera labbra ai 6 oli fitocosmetici e alla vitamina E tra gli oli c'è anche l'olio di olivello spinoso quindi contiene sostanzialmente oli e una maggior quantità di olio di olivello spinoso la consistenza è questa non so se vedete quanto ne ho utilizzato ma devo dire che quindi è un po' oleoso chiaramente perché diciamo appunto contiene gli oli ma a parte l'odore che mi piace tantissimo non lo so è un po' erbaceo come odore per cui mi piace molto a me piacciono molto i profumi erbacei ma poi si aggrappa bene sulle labbra e alla mattina io mi ritrovo con le labbra veramente morbide e idratate ovviamente è un effetto temporaneo chiaramente va riapplicato a volte io lo applico anche durante il giorno perché dà anche un effetto illuminante che se contenendo oli mettendolo sulle labbra può essere utilizzato come burro cacao diciamo scusate come lucida labbra perché le lucida leggermente infatti la descrizione del prodotto dice proprio anche ad effetto illuminante ed è vero secondo me quindi questo qui è proprio un ottimo prodotto finalmente ho trovato una lip mask che mi piace perché ne ho usato un'altra che non mi è piaciuta per niente di cui vi parlerò nei prodotti finiti invece questo già dopo 5-6 applicazioni ho capito che mi piaceva parecchio e quindi questo questa è la sua confezione esterna comunque si qua dice forse dice qualcosa di più no ho il blossom lip mask poi qua tutto in coreano non posso arrivarci sinceramente olivello spinoso probabilmente io ho un feeling con l'olivello spinoso questo quindi buonissimo poi passiamo a qualche prodotto viso e poi vi lascio da parte qualche due prodottini corpo allora devo dire che è molto buono questo acido ialuronico della Sien della linea di una limited edition della linea 4D intensive gel instant anti wrinkle effect allora è molto buono era una vecchia delizione limitata della lidl io ce l'avevo nelle scorte è un buonissimo acido ialuronico non appiccica non lascia quella sensazione appunto di di stichi sulla pelle e si assorbe subito è un gel la consistenza è quella del gel non so se vedete e devo dire che lascia la pelle idratata e rimpolpata lo uso ovviamente io lo stratifico io non metto mai solo l'acido ialuronico ovviamente i sieri li stratifico per cui chiaramente l'effetto rimpolpante comunque lo vedo però chiaramente poi è potenziato da tutte le altre sieri che utilizzo e creme in questo periodo però non sto utilizzando creme solo sieri quindi questo veramente mi è piaciuto mi sta piacendo l'ho utilizzato poco ne ho anche un altro in scorta quindi sono contenta questo di averlo acquistato normalmente io non vado molto d'accordo con la Sien e si sto registrando mi era venuto un colpo dico non sto registrando e non vado molto d'accordo con la Sien invece questo prodotto mi sta piacendo molto poi un prodotto meraviglioso che sta utilizzando da qualche giorno è il siero alla vitamina C di Mizon allora qui dice Real Vitamin C Ampoule che dire fantastico allora io ho usato diversi sieri alla vitamina C questo è un siero particolare un po' oleoso per chi ha utilizzato quello di Neogen è un po' più oleoso di quello di Neogen Neogen e Neogen non lo so questo è Mizon e niente lo amo io non vado d'accordo con le consistenze oleose ma questa proprio si non mi dà assolutamente fastidio sulla pelle non la sento pesante si assorbe subito e lascia una pelle fantastica proprio si vede proprio che lavora proprio bene sulla pelle mi vedo la pelle particolarmente luminosa già solo dopo qualche giorno probabilmente sarà l'effetto combinato di questo anche con i detergenti e tutto il resto ma comunque amo moltissimo di questo siero proprio la consistenza mi piace molto forse anche di più di quello di Neogen e quindi questo amore veramente al terzo quarto primo a utilizzo secondo terzo quarto quinto quello che è buonissimo prodotto poi un'altra crema che mi sta piacendo moltissimo è una protezione solare questa l'ho comprata da Tigotà non avevo grosse aspettative vi dico la verità invece devo dire che si sta rivelando un'ottima crema solare ed è questa della Fremont allora qui dice gel solare viso antirughe anti-wrinkle face sun gel frattore di protezione 50 più devo dire che allora l'ho acquistato a Tigotà costa 19 euro sono i soliti 50 ml se non mi sbaglio sì 50 ml dovrebbero essere non vedo sì i soliti 50 ml di prodotto fa riflesso capisco perché sono i soliti 50 ml di prodotto dicevo ma non è un gel lo chiama gel ma non è un gel è una crema gel vedete però è molto leggera bisogna massaggiarlo un po' ovviamente è una crema solare per cui ci sono i filtri va massaggiato un po' però la cosa che mi piace è che poi io non la sento sulla pelle per cui mi piace molto perché non la sento non l'avverto pesante sulla pelle si assorbe subito come vedete l'odore non mi fa impazzire ma scusate dicevo scusate l'odore non mi fa impazzire un attimo devo bere se no non riesco a porca miseria scusatemi l'odore non mi fa impazzire però non è cattivo come le che mi succede scusate mi allontano un attimo dalla telecamera ok mi sono ripreso ho bevuto un goccio d'acqua non mi volevo attaccare alla canna davanti alla telecamera dicevo l'odore non è dei migliori però non è cattivo come le creme solari quelle forti che danno quell'odore che mi dà fastidio per cui questo è un ottimissimo prodotto ve lo promuovo e ve lo consiglio io l'avevo preso in sconto da Tigotà avevo un buono da 10 euro quindi alla fine l'ho pagato 9 euro quindi ottimo acquisto poi un altro prodotto che mi sta piacendo molto è questa crema mani di quella linea nuova che adesso si trova un po' dappertutto che si chiama tesori di Provenza qui dice balsamo nutriente mani all'olio di oliva bio di Provenza nutre ammorbidisce e ripara allora sul ripara non sono molto d'accordo però nutre ammorbidisce sì infatti è una crema abbastanza densa non so se volete vedere la consistenza si assorbe anche questa subito va un pochettino massaggiata però si assorbe abbastanza in fretta e ha un odore che potrebbe piacere o non potrebbe piacere a me sinceramente non dà fastidio è molto forte un po' floreale erbaceo non saprei descriverlo mi sembra di aver letto che viene descritto come i fiori di campo qualcosa del genere ma non vorrei dire una cavolata ha una profumazione abbastanza forte per cui se non vi piacciono le profumazioni forti questa non ve la consiglio però mi piace molto come crema perché nutre e ammorbidisce le mani io la metto prima di andare a dormire è una di quelle creme che per un po' 10 minuti fa sentire un po' ha la sensazione di unto però poi le nutre in profondità e le ammorbidisce per cui questo è un ottimo prodotto costa poco io l'avevo preso mi sembra la saponeria ma l'ho visto anche al DM da altre parti sui 3,50 euro quindi se cercate una buona crema diciamo buona crema diciamo bella nutriente questa ve la consiglio c'ha l'olio di oliva io evidentemente vado molto d'accordo con le creme che hanno l'olio d'oliva perché mi piace molto anche quella della Farmatisse che vi avevo fatto vedere in un precedente video e anche quella è l'olio d'oliva e anche quella della Siena l'olio d'oliva mi piace molto per cui sto un po' realizzando questa cosa che forse vado d'accordo con le creme mani che hanno dentro l'olio d'oliva quindi ottimo prodotto questo poi termino con un pro con un deodorante allora io allora premetto che non ho particolari esigenze come avevo detto già non ho l'ascella particolarmente puzzacchiosa se non d'estate magari può capitare questo è stato lavorato in un ufficio in cui non funzionava l'aria condizionata per cui chiaramente lì sì che avevo bisogno di era molto caldo cioè questo è stato è stato caldissimo avevo bisogno veramente di un deodorante che efficace che mi tenesse d'inverno non tanto per cui non è che ci spendo tanto per i deodoranti e quest'estate ho fatto un ordine sul sito di erbolario dove ho comprato dei profumi fondamentalmente volevo comprare dei profumi di erbolario e ho preso questo deodorante allora premetto che a me erbolario non fa impazzire a livello di creme corpo e profumi no profumi sì dipende però secondo me a livello di body care è un brand abbastanza sopravvalutato invece sulla skin car viso ci sono dei prodottini secondo me interessanti ma tutto questo pippone per dirvi che secondo me sui deodoranti erbolario è top e quindi il deodorante che amo è questo ed è il Deo Gel Deodorante a lungo effetto alla menta acquatica e alla vitamina E con olio essenziale di menta piperita anche qua torna alla menta è buonissimo ha una consistenza in gel ma io avevo provato in passato altre consistenze di deodoranti in gel tipo quello della Ecos se non mi ricordo male ma mi bagnava tutte le ascelle o sceno quel deodorante invece questo non so come dire si aggrappa l'ascella si assorbe subito e mi lascia fresca e pulita e sicura tutto il sacrosanto giorno quindi erbolario top come deodoranti ho provato anche un altro deodorante di erbolario che vi farò vedere nei prodotti finiti e forse quello mi piace ancora di più per cui questo è già il secondo deodorante di erbolario che mi piace tantissimo costano un po ovviamente sui 10 euro se non mi ricordo perché avevo fatto un ordine cumulativo comunque costano sui 10 12 euro però questi qui in crema o comunque in gel durano tantissimo io con l'altro praticamente ci ho fatto tutta l'estate per cui niente erbolario top per i deodoranti mi manca il terzo da provare della loro linea dopodiché ci sono quegli spray ma quelli spray sono troppo profumosi io le robe troppe profumose non le amo particolarmente e niente questo era ho parlato comunque 25 minuti questo era l'ultimo prodotto che vi volevo mostrare ovviamente queste sono prime impressioni magari vi riserverò di darvi una recensione completa quando questi prodotti finiranno nei prodotti finiti nei finiti del mese e niente io vi saluto vi auguro un piacevole weekend e noi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti